A Sassari cresce la criminalità con furti, rapine, vandalismo e degrado nel centro storico. I cittadini sono preoccupati. Vediamo il servizio di Bebo Madeddu. L'incertezza e la paura regna sovrana fra gli abitanti dell'area metropolitana di Sassari. Gli accadimenti delittuosi degli ultimi tempi disegnano una situazione del tutto nuova in una città che storicamente ha goduto di un'ottima qualità della vita. Dagli assalti ai portavalori alle spettacolari quanto audaci rapine di gruppi armati, passando dalle spaccate delle vetrine in pieno centro fino ai furti e il vandalismo nelle scuole, Sassari registra progressivamente un aumento di intensità e diffusione di fenomeni criminali. I commercianti denunciano un sentimento di paura e preoccupazione per le quali non trovano, almeno nell'immediatezza, una soluzione efficace. Neanche l'installazione di un maggior numero di videocamere parece efficace. È sufficiente infatti un cappuccio o un casco per eludere la videosorveglianza. Oltre ai furti anche la delinquenza nel centro storico cittadino, come ormai tristemente noto, è un fenomeno in continua crescita. Risse, spaccio e prostituzione hanno trovato casa e messo soli di radice fra le mura medioevali. Un fenomeno non semplice ad arginare per il quale non si è trovato un sistema e o azioni efficaci per il suo contrasto. Quale soluzione quindi per arginare il fenomeno? Alcuni cittadini suggeriscono la militarizzazione, altri ritengono la stessa troppo invasiva, c'è chi propone l'espulsione immediata dei clandestini che affollano il centro storico, altri definiscono questa soluzione non democratica. Nei fatti la situazione è allarmante, la città è diventata meno sicura e le soluzioni restano un vero e proprio miraggio. Dove andremo a finire? Probabilmente in una giustizia fai da te. D'altronde dall'America importiamo da tempo ciò che noi non siamo in grado di fare da soli. Grazie. Grazie.